buongiorno a tutti oggi faremo queste erbette sono molto belle nelle composizioni floreali allora iniziamo subito vorrei iniziare per prima con questo qua allora uso il cotone numero 8 e l'uncinetto 1,5 allora iniziamo subito con il nodo di partenza e subito dopo dobbiamo lavorare le catenelle non c'è bisogno della precisione potete farlo di 100 130 quanto volete allora iniziamo come ho detto prima non le numero neanche ok io mi fermo qui adesso devo lavorare tutto male alte iniziando con la quarta catenella una due tre quattro ok e così via tutto male alte ciao Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.